Allora, quando parliamo del New York Times pensiamo sempre che sia il grande giornalismo americano di inchiesta, quello della schiena dritta, in realtà è il grande giornalismo dei fighetti di New York, quelli che non hanno mai capito nulla, per esempio la vittoria di Trump. Il giorno dopo lo strage di El Paso, Trump che cosa fa? Fa un discorso alla nazione, come è ovvio che lui faccia e dice alcune cose. Il New York Times decide di titolare così, loro stessi, che sono il giornale più antitrampiano che vi potevate immaginare, cioè il giornale della Clinton che ci spiegava con i loro lunghi editoriali perché la Clinton avrebbe vinto sicuramente, non avevano mai indagato sulla Clinton, ma su Trump ce l'hanno e il titolo del giornale è Trump chiede unità contro il razzismo, questo è il titolo che fa il giorno dopo la strage di El Paso, solo che questo titolo va a finire sui siti internet, sul sito internet New York Times e il Partito Democratico, tra cui la mitica Ocasio, quella che piace a tutti quelli a cui piace perché è una bella, veramente una buona, beh la mitica Ocasio dicono che titolo orrendo, un giornalista del New York Times dice io non avrei mai fatto un titolo così e poi altri due deputati del Partito Democratico e poi Twitter, tutti democratici di questo mondo e tutti liberal della minchia di questo mondo, sono contro questo titolo, dopo un'ora il titolo del New York Times cambia. Prima era Trump chiede l'unità contro il razzismo, poi Trump se la prende con l'odio e non con le armi, va bene? Se la prende con l'odio e non con le armi, il primo titolo secondo voi l'aveva detta Trump quella cosa? Sì, l'aveva detta, cioè Trump chiede unità contro il razzismo, l'aveva detto nel suo discorso, solo che ai democratici non andava bene e quelli del New York Times che comunque hanno un pedigree antitrampiano avevano titolato in una maniera che non piaceva ai democratici, nel giro di un paio d'ore i democratici glielo fanno cambiare. Secondo voi questo giornalismo come cacchio lo definite quando un titolo di prima pagina del giornale sul Presidente della Repubblica Americana viene cambiato perché ci sono tre parlamentari che chiedono e si indignano di cambiarlo? La rete si arrabbia per questo titolo e quelli che stanno zitti probabilmente non hanno voce in capitolo. Questo è il populismo, rompono i coglioni sul populismo, questo come lo definite? Come definite un giornale che cambia il titolo in prima pagina per un po' di Twitter, possono essere anche mille e tre parlamentari, o populismo o essere servi, 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 non il giornale dell'intelligenza, della merda politicamente corretta che non poteva prendere una frase di Trump che aveva detto ma ci doveva essere comunque un riferimento negativo a Trump. E questo è il giornalismo da cui noi dobbiamo imparare? E questo è il giornalismo del terzo millennio? E questo è il giornalismo fico contro il giornalismo invece dei tabloid? Viva il Daily Mail, viva i tabloid, se un giornale come il New York Times si vergogna di aver fatto un titolo perché ci sono tre deficienti che su internet o cinque deficienti o mille deficienti che su internet e su Twitter stabiliscono loro qual è il titolo giusto e loro sono l'argine contro il populismo, loro sono morti che camminano se l'atteggiamento di un giornale è quello di farsi coinvolgere e nel cambiare un titolo non per un'editoriale stabilità del giornale ma perché lo hanno usato nella nuova piazza. La nuova piazza del populismo non è più il bar figlietto di New York ma Twitter. Ciao.